I cancelli dello stadio di Borgo Ferrovia sono chiusi dal 2014 ma presto potrebbero riaprirsi l'annuncio del sindaco Gianluca Fessa arrivato attraverso le sue pagine Facebook di un finanziamento di circa 750 mila euro grazie al bando Sport e Periferia infatti potrebbe dare nuova vita a questo che è uno degli impianti più grandi e importanti della città. Ovviamente al momento si trova in pessime condizioni ma presto potrebbe tornare a servizio dei ragazzi e dei bambini di questo grande quartiere. Borgo Ferrovia non aspetta altro, un quartiere storico, grande, popolato, che ha voglia di tornare a vivere e per farlo ha bisogno di un segnale. La luce potrebbe accendersi soprattutto grazie a questo impianto, abbandonato da anni e lasciato all'incuria e al degrado. La storia dovrebbe proseguire spegnendo i fari che fino ad ora hanno illuminato solo l'isochimica, il mostro d'amianto che è stato un simbolo malato di questo quartiere che invece è ben altro. La bonifica dell'azienda della morte porta via via alla vita e lo stadio è parte integrante del progetto di rinascita. La giunta festa se ne è occupata da tempo. Nell'aprile del 2020 era stato approvato in giunta il progetto di rifacimento del campo per un investimento di circa 1 milione e 600 mila euro. Il costo complessivo dell'intervento sarà coperto con mutuo proprio dell'ente con apposita variazione ed avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, attualmente all'esame del Ministero dell'Interno. Questo è il passaggio della delibera, ma di quei soldi non se n'è più parlato. Ieri però è arrivata un'ulteriore buona notizia. Il sindaco festa con un posto su Facebook ha annunciato testualmente Con il finanziamento ottenuto dal bando Sport e Periferie siamo pronti ad avviare le procedure per riconsegnare alla comunità dello storico quartiere cittadino la struttura finalmente qualificata. Borgo Ferrovia riavrà il suo campo sportivo. Circa 750 mila euro arriveranno nelle casse del comune per la riqualificazione, metà di quanto messo nero su bianco dall'aggiunta. Una cifra importante, forse non decisiva, ma sicuramente utile a riaprire quei cancelli e dare a Borgo Ferrovia il riscatto che merita.